Hello, hello boys and girls, how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Va bene, va bene, oggi è una bellissima giornata. What day is it today? It's Wednesday, 18th, March. What day is it today? Wednesday, 18th, March. Cosa faremo oggi? Speaking, speaking. Quindi prendete i vostri libri a pagina 35 e iniziamo. Ok, so page 35. Talk about the picture. Il titolo di oggi è Talk about the picture. Ok? Che significa? Parlate circa, a proposito di, la figura. Quindi io vi farò delle domande e poi voi risponderete nella vostra testa. Ma qui, insomma, la situazione è un po' diversa e quindi oggi io farò le domande, voi rispondete nella vostra testa e poi alla fine, soltanto alla fine, darò le soluzioni. Va bene? Dai che iniziamo. Ok, so. What colour is the snake? What colour is the snake? What colour is the snake? How many flowers are there? 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 What is the man doing? What is the man doing? What is the man doing? What is he wearing? What is the parrot doing? What is the parrot doing? Ok, bene, allora ricominciamo da capo, questa volta darò le soluzioni. Where's the frog? Hmm, where's the frog? The frog is next to the giraffe. The frog is next to the giraffe. Where's the elephant? The elephant is between the snake and the crocodile. The elephant is between the snake and the crocodile. Where's the yellow fish? The yellow fish is in the water. E nell'acqua, certamente. Potevo anche dire The yellow fish is between the two red fish. What color is the snake? What color is the snake? The snake is purple. È un colore un po' strano, eh? Per un serpente, però... It's purple. Ok, it's purple. How many animals are there? How many animals are there? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. There are eleven animals. How many flowers are there? There are eight flowers. There are eight flowers. Vi ricordate la canzone? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Andiamo avanti. What is the man doing? Osserviamo l'uomo. Anche qui avevamo fatto la canzone. What are you doing? What are you doing? Allora... The man is taking a photograph. The man is taking a photograph. What is he wearing? What are you wearing? What are you wearing? He is wearing... A green jumper. Blue jeans. Light blue shoes. What is the parrot doing? What's the parrot doing? It's flying. Flying. Ok. Spero che vi sia piaciuta la lezione di oggi. Mi raccomando, continuate a fare esercizi. E arriveranno altri video. Buona serata. Kisses from teacher. Bye. Bye guys. Be good. Spero che vi sia piaciuta la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta la lezione di oggi.